Benvenuti amici di mobileOS.it, quest'oggi proviamo una custodia interessante per il Samsung Galaxy S6 della SteelGut ed è una custodia molto elegante, ultra slim, combina davvero una buona facilità, ha un buon design, un design classico, elegante, abbiamo una vera pelle come indicato anche dall'azienda, appunto la SteelGut, una pelle di primissima qualità e morbida microfibra per proteggere e nel frattempo anche pulire il display, quindi devo dire che la custodia è stata realizzata con un'attenzione massima per i materiali, giudicate voi, devo dire che è davvero molto molto bella all'interno anche con queste scritte dell'azienda, ecco qui invece la parte posteriore è tutta fatta in modo da pulire e da tenere al sicuro il nostro telefono, ecco qua questa è la parte invece posteriore, vi faccio vedere anche vedete il logo in rilievo, anzi direi in questo caso impresso di SteelGut e andiamo a mettere sul telefono, vediamo un po' come rimane, la qualità, i materiali sono di prima scelta, SteelGut ci tiene a dirci che la lavorazione è artigianale, i modelli sono fatti perfettamente su misura, tutto quanto fatto in maniera artigianale, il design è premium, devo dire che per il resto poi vedete la confezione è questa, non è compreso nient'altro ma comunque direi più che sufficiente e guardate come abbraccia perfettamente il nostro Samsung Galaxy S6, perfetto, guardate, lascia aperto a sinistra il bilancio del volume, a destra il tasto di accensione e spegnimento, nella parte superiore invece una volta aperto il dispositivo possiamo utilizzare anche vedete la porta infrarossi, sotto invece lascia aperte le altre funzioni importanti come appunto l'ingresso per il cavo microSD e il jack da 3.5, se non che vabbè lo speaker, quindi andiamo a aprire la nostra custodia, è una custodia comunque leggera, ultra slim, devo dire che non va ad appesantire il telefono, non crea problemi da questo punto di vista, può essere benissimo usato il telefono mettendo dietro la custodia e quindi vedete io posso tranquillamente andare a fare le mie operazioni con la custodia messa, direi che non ci sono particolari problemi né di peso né di ingombro, quindi è una custodia molto molto bella, devo dire che anche il colore è forse magari un po' più maschile ma devo dire che è elegante e inoltre sul sito troverete anche altri colori, il prezzo è di 29,99€, può essere acquistato anche su Amazon senza problemi, quindi devo dire che insomma permette di collegare gli auricolari anche con la custodia inserita e chiusa, c'è una pelle di prima qualità, un design elegante, sorregge bene il telefono e nel frattempo tiene anche pulito un po' il display con questa zona in microfibra, quindi direi una custodia aiuto rispetto a soli 29,99€ ma fidatevi questa pelle, questa praticità, questa bontà difficilmente la troverete su altre custodie, direi quindi che è tutto per questa custodia di Stillgood per il Samsung Galaxy S6, ci vediamo alla prossima cari amici di mobileOS.it, ciao!